Pronti? Siamo pronti? 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 Via! Ora! Mamma mia, dammi cento lire che in America voglio andare Ho da darti una notizia crudele tua madre è morta mia madre è morta oddio mi sento male oh cielo si sente male ci vorrebbe un medico classico non è stato classico ci devi non esaginare qualcuno mi ha chiamato sta male la medicina è impotente un velo pe de velo pe arabesca ci vorrebbe un curatore cosa? curatore con la r non con la l ho detto con la r perché la fai con la l qualcuno mi ha chiamato? sta male di che segno sei? del cancro ahimè un bel cancro dura poco ci vorrebbe un estetista esorcista un esorcista L qualcuno mi ha chiamato? sta male guardate come regia quest'uomo guardate come si muove in scena aglio con guaglio questo ragazzo puzza d'aglio e non solo d'aglio anche dio è impotente uh se lo sapesse suo nipote beppuccio ti sei fatta male? no no beppuccio dai andiamo dai fai veloce che c'è Carla Frocci qui che sei fatta male non è che mi son fatta male mi fa da ventosa quando vado giù così non è cioè a questo punto capisci che a questo punto non era così che ne avevo pensato non era così non lo so continuo c'è c'è un finale drammatico questi qui che non posso farci dai rifai l'entrata ci vorrebbe un medico esce lui infermiera con le scarpe da ballo fatti fare una petticina sentite da un medico così se sei capace non lo so porta via tutto parte il fatto che più che un medico sembra un infermiera comunque andiamo cazzo cazzo tua nonna è morta e tuo padre sta male mia nonna è morta peccato ella mi doveva dieci da mille no come no non sopporto che mi si muti il testo io ho dato il maschio tirati su io ho dato il maschio ho dato il maschio no non sopporto questi mutismi di testo nella staticità teatrale non è possibile che si prorrompa in questo mondo c'è due testi ma proprio un testo di ma proprio il testo era bello originalmente il testo era bello e aveva un testo adesso gliel'hanno scassato tutto prima è un testo di dito cosa fai? cos'è? la Roll Royce